Berenice, principessa di Giudea, una donna tra amore, potere e tragedia. Introduzione Berenice, principessa di Giudea, è stata una figura affascinante e controversa della storia antica. La sua vita, avvolta nella leggenda e nell'intrigo, è stata assegnata da eventi drammatici, amori passionali e intrighi politici.nascita e famiglia. Berenice nacque nel 28 d.C. da Erode Agrippa I, re di Giudea, e Cipro, nipote di Erode il Grande. Cresciute in una famiglia di potere e ricchezza, ricevette un'educazione raffinata che la rese una donna colta e intelligente. I matrimoni Berenice si sposò tre volte. Il suo primo matrimonio fu con Marco Giulio Agrippa I, re di Mauretania. Dopo la morte del marito, si sposò con suo zio Erode di Calcide. Rimasta vedova per la seconda volta, sposò Polemone II, re del Ponto, ma il matrimonio durò poco. La relazione con Tito La relazione più famosa di Berenice fu con l'imperatore romano Tito. I due si incontrarono a Gerusalemme nel 69 d.C. e si innamorarono perdutamente. Tito la portò a Roma con sé, dove lei divenne una figura influente nella corte imperiale. L'opposizione del popolo romano La relazione tra Berenice e Tito suscitò l'opposizione del popolo romano, che non accettava l'idea di avere una regina ebrea. Le pressioni politiche costrinsero Tito a ripudiare Berenice nel 79 d.C., evento che causò a entrambi grande dolore. Ultimi anni e morte Dopo la separazione da Tito, Berenice si ritirò a vita privata. Morì dopo l'81 d.C., all'età di circa 53 anni. La sua morte avvolta nel mistero, con alcune fonti che parlano di avvelenamento. Eredità Berenice è ricordata come una donna forte, intelligente e indipendente. La sua vita è stata un esempio di come le donne, anche in un contesto storico dominato dagli uomini, potessero avere un ruolo di primo piano. La sua storia è stata raccontata in numerose opere letterarie e artistiche, contribuendo a renderla un personag celebre. Conclusione Berenice, principessa di Giudea, è stata una donna di grande fascino e complessità. La sua vita, ricca di eventi drammatici e passioni travolgenti, la rende un personaggio storico di grande interesse. La sua eredità continua ad affascinare e ispirare le generazioni future.